Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale e del nostro nuovo video come al solito io sono gabry io birillo oggi andiamo a fare vedere il nostro nuovo liquido vai birillo eccolo qua un liquido black cherry della azar delisir a roma abbiamo messo la basetta neutra abbiamo miscelato zero nicotina zero nicotina un liquido dovrebbe essere un black cavendish con la ciliegia andiamo a fare la prova di svapo nel kai fun 5 vai gabi sulla boxetta dna è un po' un tiro di guancia un po' aperto si sente giusto il tabacco in parità con il gusto della ciliegia no sento un po' più come morisco che avevano provato no c'è nasco si sente pure però si sentiva molto la ciliegia qua sento un po' più il tabacco e dolcemente la ciliegia si e ci sta un botto un po' più forte questo è leggeribile ci sta bene io ci do un 9 e mezzo a me mi piacciono qualsiasi paromatizzati ricordiamo preso da svapo caffè maria di carara moliciara e la trovare allora data vera d'oro svapo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo una pagina su facebook e su instagram veniteci a trovare tanti vi aspettiamo ciao